Grazie a tutti! Ho fatto 30 giri Quanto è bella la manchia C'è uno che si chiama Bottarelle E gli ho dato una bottarella C-E-S-S C-E-S-S Ah Che fastidio Quelle che fanno una foto dove sono i denti C'è tipo I denti horror I denti horror BOOOOM Non cercare il... BOOOOM Oh ma oddio cosa sta succedendo No vabbè finalità ho perso Finci niente con te Sbaglio che ho fatto un bruciatore Oh muro Oh ma oddio cosa sta succedendo Uhhhh Dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente A finalità di commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare un bandiera verde segnato dei secondi da scontare e in giudizio la di malta ce lo vieni oddio se la esplosio oddio Oh, dove è andata? Non lo so No, è passato attraverso Boom No, sei morto Dove è pensare Ora è morto E' ancora vivo Come si fa? Come si fa? Quindi uno fermo che si fa Che si fa assoddare e nonostante Fermo Mamma mia Non è rimasto trinente Ibrantelli, cazzo Oh Mamma mia Ops Il lost Il lost era girato mezz'ora pistola Ops, Ibrim Boom, fit Mamma mia Mamma mia Bandiera gialla Dio, che gruppetto c'è Dio, cosa c'è a curva a te? Non è più pieno di curva a te che in tutta la strada l'ha vista Guarda questo Marcello, guarda da Attenzione, attenzione Ops Ops Sto figato Ibrim No, sono morto Cos'è successo? Dimmi se stai... Non è più pieno di curva a te che in tutta la strada l'ha vista Ops 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 Ops